salve amici bentornati sul canale oggi saremo insieme a pompei nella città della carità nel santuario della beata vergine del santo rosario è la città di maria a cui approdano milioni di pellegrini per ascoltare le parole di gesù venite e state con noi noi ti celebriamo sei la benedetta figlia del tuo figlio intercedi per noi tergine immacolata gioia del tuo signore hai donato la vita al nostro salvatore il tuo grano fecondo ti ha donato la gioia di essere madre di Cristo e dell'umanità americano 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 più bella cosa e la gioia di Cristo e dell'umanità e la gioia di Cristo e dell'umanità e la gioia di Cristo e dell'umanità tutti tutti e la gioia di Cristo e dell'umanità in base al giorno e la gioia di Cristo e dell'umanità e la gioia di Cristo e dell'umanità e la gioia di Cristo e dell'umanità Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.